Ciao a tutti, eccoci qua per parlare di cinema, sono sempre Giulio, volevo fare la recensione di un film che è uscito da due o tre settimane su Netflix e che sono riuscito a vedere che è Slumberland nel mondo dei sogni, spero di averlo pronunciato giusto, questo è il nuovo film di Francis Lawrence, regista sempre molto interessante, regista della saga Hunger Games, un regista molto anche colto e capace secondo me di colto inteso come capacità di intrattenere, ma è banale ecco anche, è anche bravo a orchestrare un film che lo dico subito, mi è piaciuto moltissimo, mi ha anche entusiasmato e mi ha sorpreso, difficilmente almeno a me capita di vedere film entusiasmati in generale, lo dico, sulle piattaforme in streaming ma questo è un film assolutamente valido sotto tanti punti di vista a partire dal bellissimo cast che è guidato da una giovane e molto promettente attrice che è Marlo Barclay che interpreta la protagonista e ha una spalla decisamente atipica perché è Jason Momoa che non è il solito Jason Momoa fisicato, anzi dimostra di avere anche delle capacità comiche perché è una creatura un po' particolare ma soprattutto perché ha la pancia. Poi c'è Kyle Chandler, Ambly Gonzales, Chris Doan insomma un bel cast ma a tenere tutto il film è appunto la protagonista che interpreta appunto con questa ragazzina che ha in passato ha perso già la madre e vive con il padre, il padre è un guardiano di un faro e hanno un rapporto veramente idiliaco, c'è una bellissima intesa tra i due ma purtroppo succede che anche il padre muore, viene travolto da un ubifragio e quindi muore e per la ragazzina è un trauma che non riesce a sopportare ma forse una strada d'uscita o di entrata mi verrebbe anche da dire è quando trova una mappa, una mappa particolare che ti porta nel mondo di slumberland, è un mondo particolare, un mondo onirico dove si possono vedere i propri sogni ma anche i propri incubi e entrando in questo mondo appunto la ragazzina incontrerà un fuorilegge che è Flip e troverà anche tutta una serie di personaggi di un altro mondo ma decisamente ben caratterizzati c'è una sorta di polizia anni 70 che insegue appunto il fuorilegge Flip e anche i due mondi sono due mondi che hanno due vere identità non solo da un punto di vista così diciamo visivo ma anche come caratterizzazione e in questo viaggio la ragazzina farà di tutto per trovare il padre una strada c'è ma non ve la voglio dire bello 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 bel film che mi ha coinvolto ho trovato un decisamente buon film di intrattenimento come detto Francis Lawrence firma la regia ed è una regia molto viva molto dinamica ma lucida non si fa diciamo trascinare in maniera eccessiva dall'avventura dagli eventi ma è sempre molto lucida molto precisa anche in sequenze che sono girate completamente in blue screen o in green screen perché c'è un grandissimo uso di effetti speciali massiccio proprio neanche nella raffigurazione dei mondi ma anche di certi personaggi anche nelle pelli di alcune figure e tutti questi effetti speciali però sono effetti usati benissimo calibrati funzionali alla storia alla raffigurazione e non dico che non si vedono certo che si vedono ma sono diciamo non sono preponderanti non sono invadenti ecco hanno proprio una funzione di rendere il tutto il più verosimile possibile ci riesce benissimo anche la la sintonia tra flip cioè tra la ragazzina e flip è molto divertente e formano un duo interessante e poi il film in realtà ha dei una serie di non sono dei veri e propri twist ma delle così con delle raffigurazioni delle narrazioni dei personaggi che durante la storia hanno dei cambiamenti e quindi c'è si vede proprio si percepisce secondo me l'evoluzione di di certi personaggi sia nel nel questo mondo onirico di slumberland sia nella realtà la ragazzina è ovvio ma anche i personaggi collaterali che troviamo nel mondo reale nella fattispecie lo lo zio della della ragazzina a cui appunto verrà affidato che uno zio totalmente fuori dal mondo in un certo senso perché la sua vita è stata solo dedicata a occuparsi di chiavi e chiavistelli diventato ricchissimo la casa stupenda ma nella sua vita è stata solo quella o anche altri personaggi nel mondo reale per non parlare poi di tanti almeno due o tre nel mondo onirico o anche nel mondo degli incubi ecco per cui c'è proprio ho percepito una sorta di lavoro sulla profondità dei personaggi cosa che nel cinema di intrattenimento odierno secondo me si fa pochissimo ed è un peccato perché non ti affezioni se non riesci ad approfondire il personaggio non ci non ci entri in empatia e io ho trovato grandissima empatia nella ragazzina in flip in in altri personaggi collaterali c'era proprio un film che ti cattura che ti guida in questa avventura che dura poco più di e di due ore ma che non tannoia mai qua e la secondo me sono state usate alcune idee prese da altri film che è giusto che sia così perché bisogna ispirarsi altri film non copiarli ispirarsi che è che è diverso per ad esempio la raffigurazione dei dei vari dei sogni o di come loro si spostano da un sogno all'altro da un incubo all'altro avviene tramite le porte un po come succedeva ad esempio in matrix apri la porta e ti trovi da tutt'altra parte e ce ne sono anche altre e poi secondo me funziona anche i vari genere che si uniscono si mescono come dei colori perché il film non ha un'unica identità di genere è un po fantasy un po commedia un po un po pizzico di di dramma azione ovviamente avventura e tutti questi generi che sono quindi anche dei linguaggi funzionano benissimo tutto tutto va a gonfie vele un film proprio che che ti rapisce che ho trovato molto preciso cioè l'idea è chiara e la cosa anche più ulteriore che la sceneggiatura come detto è scritta proprio bene una sceneggiatura di intrattenimento che porta la film di michelle andal del man e david guion che david guion perché non lo sapesse è un giocatore è un ex giocatore di calcio francese e attualmente è stato è anche stato un allenatore di calcio quando l'ho scoperto la cosa mi ha divertito moltissimo perché il film non è tratto da nessun libro fumetto niente è una storia originale è una storia che funziona bene che fa passare due ore e dieci di grande intrattenimento con personalità che anche un'altra cosa che personalmente nei film in streaming vedo veramente poco 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 e quindi sono proprio entusiasto di questa bella bella avventura che richiama anche un po il cinema anni 70 ci sono tante cose sono tante cose unite molto bene di scuro divertimento è un perfetto film per il target teenager ma anche un adulto secondo me si si diverterà e che dire l'altro però un film che funziona e va alla grande il film che non aspettavo onestamente non mi aspettavo ovviamente ovviamente avevo qualche dubbio su jason momoa al di fuori di di aquaman e invece è proprio divertente e esplosivo in alcuni momenti il suo flip che è una sorta di mostro una cosa un po particolare con le conna ricordo un po se vogliamo fare un collegamento un po è il boy proprio se vogliamo proprio fare collegarsi e niente volevo fare questa recensione perché mi ha proprio preso in questo mondo dei sogni di slumberland e anche dei degli incubi non ho voluto parlare degli incubi perché non ho voluto fare spoiler sulla trama perché comunque la parte degli incubi è una parte molto particolare vi avrei rovinato il film basta questo è quello che voglio dire questa era la recensione ciao a tutti alla prossima